La fine dello stato di emergenza ha portato anche una ventata di ottimismo per il settore turistico del Vallo di Diano, con le sue bellezze che sono diventate fonte di grande interesse da parte dei visitatori. San Pietro Altanagro e il suo Parco dei Mulini diventano esempio di come le bellezze presenti nel comprensorio suscitano interessi e attenzione da parte dei turisti e delle scolaresche. Lo scorso weekend, infatti, un bus di turisti è arrivato nel piccolo centro valdianese per visitare i mulini presenti nel parco su richiesta dei referenti del sito di viaggi Saluti Da, che nei giorni scorsi aveva contattato direttamente il comune guidato dal sindaco Domenico Quaranta per poter accedere al Parco dei Mulini con il bus di visitatori. La macchina organizzativa è stata immediatamente attivata dal presidente del Consiglio Antonio Pagliarulo che, grazie anche all'ottima preparazione dei responsabili ed in primis Marianna Iannone e Maria Pagano impegnate nell'attività di promozione del sito, ha consentito di mostrare nel pieno della sua bellezza il parco approfittando anche della giornata estiva e mettendo a disposizione dei visitatori l'area picnic. Circa una cinquantina di persone ha raggiunto quindi San Pietro Altanagro che si è fatto trovare pronto per l'accoglienza consentendo ai turisti di poter accedere e visitare anche all'interno gli antichi mulini recuperati, con le guide che hanno spiegato loro il funzionamento dei mulini e quali erano i prodotti ricavati dalla lavorazione. Inoltre per i visitatori è stato anche possibile effettuare un'escursione in mezzo alla natura del parco. Oltre ai visitatori di domenica scorsa, San Pietro Altanagro si prepara anche a ricevere nuovi bus, questa volta per l'accoglienza di scolaresche che nei prossimi giorni giungeranno al parco dei mulini per viaggi di istruzione. Intanto l'amministrazione comunale di San Pietro, visto il crescente numero di visitatori, si è già attivato per effettuare lavori di riqualificazione del sito turistico, puntando all'abbiamento anche dell'area picnic per poter far fronte alle numerose richieste di usufruire degli spazi verdi per le gite fuori porta. Riparte e si intensifica quindi il turismo nel Vallo di Diano con le sue bellezze che risultano particolarmente apprezzate anche oltre i confini territoriali e con numerose richieste che provengono da più parti per venire a visitare le bellezze presenti in tutto il territorio valdianese. Grazie.